Nell'ambito delle storie legate al mare che oggi vengono inaugurate qui nei locali del Castello Svevo di Termoli, c'è anche una mostra dell'editore e fotografo Stefano Leone, una mostra con sue opere davvero belle e anche piacevoli a vedere. Allora Stefano, rientri in questo curriculum di iniziative che vengono fatte qui in questo ambito del Castello. Sì, in un luogo sacro, mistico, mitico, storico che è il Castello Svevo di Termoli, la mostra fotografica permanente il mare La Vita, che esprime innanzitutto a livello teorico il mio concetto di fotografia, una forma d'arte che non attiene alla mera registrazione dell'immagine ma viceversa alla condivisione di un percorso indivenibile che la stessa foto dà alla persona perché la stessa fotografia vista in momenti diversi, in epoche diverse, in ore diverse, dà emozioni e sensazioni e pensieri diversi. Quindi, a parer mio, non è vero che la fotografia è una forma statica della rappresentazione ma tutt'altro, è una dimensione in continuo movimento. Anche se non è in movimento ma comunque dà questa idea alla foto, la foto parla anche solamente se viene esposta e la guardiamo ci parla la fotografia, vero Stefano? Esattamente, la rappresentazione fotografica attiene senz'altro alla testimonianza ma che è un dato, se vogliamo, spesso oggettivo ma anche alla interpretazione che ha rilevanza oggettiva e soggettiva. In questo caso ho voluto richiamarmi a questo binomio, il mare, la vita perché è senz'altro da tutti condivisibile questa simbiosi che c'è tra la vita dell'uomo, degli esseri umani e della natura con il mondo del mare che appartiene a tutti, non solo a coloro che abitano le città costiere. Quindi è ovviamente un itinerario molto simbolico. Già quest'alveo primigenio è importantissimo e per me è un grandissimo onore esporre qua in forma permanente. Si va quindi per simbologia in teoria, in teoria poteva essere esposta anche una sola fotografia perché anche da una sola immagine si può ripartire e partire ogni volta per l'appunto. In questo caso c'è un percorso che attiene alla vita e alla storia di alcuni simboli e personalità della nostra città. Un'ultima domanda te la voglio fare. Abbiamo parlato di acqua di mare. Quanta acqua si è infranta contro gli scogli termolesi da quando tu hai intrapreso questa veste di editore con quei famosi e bellissimi calendari sui centenari del Molise? Sì, essendo fatto anche io di acqua ho cercato di raccogliere ogni volta da bambino l'acqua come dono, soprattutto l'acqua del mare. Il mio percorso comincia da ragazzo 40 anni fa, poi si è affinato con le foto sugli anziani, sui centenari e sempre nel mio piccolo la passione autentica per il mare, per le donne e gli uomini di mare che costituiscono una risorsa, uno dei futuri migliori per l'umanità. Senti, proprio ultimissima questa volta è vero, c'è una fotografia delle tante che tu hai scattato a cui sei affezionato particolarmente e che non ci esiste mai a vedertela nel tuo ambito. Sì, c'è la fotografia di un anziano di Termoli di moltissimi anni fa che io vedevo tutti i giorni quando andavo all'elementare e poi alla scuola media brigida. Poi ho perso di vista questa persona negli anni dell'università perché erano cambiati gli orari, sia miei che i suoi, e i luoghi. Ho ritrovato questa persona e l'ho rifotografata quando era novantenne. La fierezza, l'identità, l'amore per il prossimo di quest'uomo è secondo me ritratto nel suo volto. Un uomo assolutamente semplice, assolutamente uno di noi per questo universale. Ma è presente anche qui nella mostra questa foto? La mostra è un itinerario che verrà modificato, aggiornato ogni 60 giorni per cui sarà senz'altro presente. Capiterà. Grazie Stefano. Grazie.